Valstagna ancora una volta si conferma il centro del mondo per quanto riguarda la canoa. Sono arrivati infatti da tre continenti gli oltre 300 iscritti alla gara di Coppa Europa che si è svolta l'11 e il 12 giugno per le categorie Under 14, 16 e 18. Una gara serrata e spettacolare che proseguirà poi il 10 e 11 settembre sempre sul Brenta con il campionato italiano assoluto Senior ed Extreme di Slalom. Sono stati gli stranieri a far registrare i numeri e i risultati più importanti canoe dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dall'America e da mezza Europa. Grande la soddisfazione per il Canoa Club Kayak di Valstagna che ha organizzato la manifestazione. Valstagna ancora una volta dunque ha aperto il circuito che proseguirà con tappe tra le altre a Solcan, Cracovia e Bratislava.